Mi trovo in un palazzo rinascimentale meraviglioso a Sacile, in provincia di Pordenone, nel frio di Venezia Giulia. Qui una volta, tra queste mura, si discuteva di musica, di politica, di cultura, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno adesso, per un'Europa unita nelle idee, nella musica, nella cultura, nella creatività, nella politica, nell'economia, in tutto. Per questo il 26 maggio sarà una data molto importante per andare tutti insieme a votare. Grazie 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 Grazie